su quella davanti hanno abbassato la vela davanti e si schiantano contro gli scogli sulla vela di dietro e poi tutti i fuoco con i cannoni di destra andiamo in rotazione per continuare a separare tirata gli giù la vela di dietro la vela lì è andata giù bene, che le maledette gli tiro la palla della pace gli tiro la palla della pace ok, palla della pace è tirata io gli ho tirato azzordante io gli tiro quelle che gli frammentano gli ho avanzato uno gli tiro la palla della pace dire che sono affrontato uno vado a sotto a dare un check alla nostra stiva io cerco di ammattare una che rimassa guarda 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 che non arrivi in una dalle forte il caffè ha riparato questo è stato un'immagrazione grazie per un'immagrazione oh mio dio non sto scocando non sto scocando ma non sto scocando grazie per un'immagrazione grazie per un'immagrazione NEEEEC! Sono alasunti Hai appunto reenacto la seconda mondo della sicurezza allozo della mia... Cazzo, però siete morti in due, non vabbè E poi abbiamo ancora un buco sotto Edo, Edo, difendi le cazzo di scavette Ah, ho preso il corno per difendere le scavette No... guarda che salgono le tue spalle eh vabbè io posso andare ma usa le pezze di orecchie ah ok un po' che mi era tirato allora ah è spegnito l'incendio usa il corno sul fuoco non si spegne e' guarda la storia qua 2 ma no bello non siamo sicuri che non abbiamo tucker